Buongiorno a tutti, oggi vi spiegherò come fare le foto al display di un iPhone 4S per esempio, se siete su internet e volete scaricare questa foto la tenete schiacciata ma vedete che non c'è salva e allora un metodo semplice è schiacciare il tasto per andare sul menu insieme al tasto di sblocco per esempio così poi vedete che per esempio andate sulle immagini vedete che avete fatto questa foto e allora la modificate, la tagliate e come vedete la tagliate finché come la volete voi così vi viene la foto normale come se l'avete fatta voi Buongiorno a tutti